Era una squadra formidabile, avevano risolto quasi tutti i casi, ma questo sembrava difficile. Pronto, polizia? Si calmi! Si calmi! Che succede? Sì, è un po' di potenza, una macchina, e la mia, che non esiste, ma si parte 4, venga sotto, la mia! Stiamo arrivando, vabbè! Sto nello stai pagando, non lo sanno! Stammo, ne va, la cosa! Non c'è un c***o! 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 Non c***o! Non c***o! Non c***o! Non si buttare! Non si buttare! Non si buttare! Stai lì! Tranquillo! Ehi, quella 1, quella 2, è centrale! Basta! Non c***o! Non c***o! Ehi, ma chi come fai? Metticela a pasta! Che andando, ora ci muovo bene, va bene? Un c***o! 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 A posto, che spaghetti? A tu! Un c***o! Io mi sto buttando! Ehi, mettoci magari un basilico, pazzo! Mi sto buttando! Un c***o! Un c***o! A posto! Ehi, metto un c***o! No! Ehi, metto un c***o! Ma che sto fai? Ehi, metto! Ma che sto fai? Ehi, metto un c***o! Stratta di polizia il film, al cinema? No, è a casa!